Al via in Calabria le celebrazioni per commemorare San Francesco di Paola, nel sesto centenario della nascita. Ricco il calendario degli eventi religiosi che prevede una sorta di cammino di approfondimenti sulla vita, le opere e la spiritualità del santo nato a Paola il 27 marzo 1416. Il programma religioso sarà presentato domani mattina nel corso di una conferenza stampa indetta da padre Francesco Marinelli, correttore generale dell'ordine dei minimi e padre Gregorio Colatorti, correttore provinciale dell'ordine dei minimi. Saranno presenti il sindaco della città di Paola, Basilio Ferrari, e il presidente della giunta regionale Mario Oliverio, che ha inteso contribuire a questo anno speciale, istituendo un apposito comitato istituzionale per la celebrazione del sesto centenario del più grande taumaturgo della storia cristiana. E ieri, nell'anniversario della morte di San Francesco di Paola, il presidente della conferenza episcopale Calabra, Monsignor Vincenzo Bertolone, durante una solene celebrazione eucaristica, ha ricordato la figura del santo, definendolo viandante di Dio, in mezzo a una società di senza nome e di sofferenti. L'arcivescovo si è infine rivolto ai giovani, esortandoli ad essere protagonisti della loro vita. Sempre ieri la sacra reliquia di San Francesco di Paola è stata portata in processione verso la nuova chiesa dove si è tenuta un'altra celebrazione eucaristica. Cristina Iannuzzi per la CNews 24.